Buongiorno a tutti, possiamo partire su queste due delle premiazioni e così non tutti potremo tornare tranquillamente alle loro case per l'ora di pranzo Ci siamo, lo scambio è pronto, pistevo e ti accanto, via se le tue piacce partite queste quattro sete e prendiamo via quella asetica di Vucelle, per questi i camera sottotitoli del Vucelle un'atleta di la asetica di Vucelle